La stagione 2022 che sta per iniziare come la continua di un percorso di connessioni, interscambi, attività e progetti, un percorso di crescita e di scambio di conoscenze e competenze, di divertimento, gioco e programmazione, nel segno del ciclismo, dello sport in generale e della valorizzazione del territorio. L'associazione ciclistica giovanile Un Dento in Più ha celebrato presso il Parco Tella Grave di Castellana il passaggio dalla stagione 2021, quella del debutto alla stagione 2022, quella che porta a conseglie, obiettivi della conferma e di un'ulteriore crescita. A battezzare l'avvio della nuova stagione dell'associazione sportiva nata a fine 2020 con sede a Castellana Grotte, base logistica ad Alberobello e attività estese a diversi altri comuni del sud-est barese, le istituzioni del territorio, le autorità sportive, Domenico Pozzo Vivo, Scalatore Lucano, campione della nostra terra. È stato lui ciclista di grande regolarità e in evidenza per la costanza di piazzamenti nelle classifiche generali delle più grandi corse a tappe, l'ospite d'eccezione all'evento da una stagione all'altra, il ciclismo dei ragazzi a Un Dento in Più. Dopo la parte istituzionale, la presentazione dei team Un Dento in Più, giovanissimi e esordienti allievi 2022, tecnici e talenti, battezzati appunto dalla presenza di un campione e di un grande esponente del ciclismo italiano come Pozzo Vivo. L'evento di Castellana segna così l'avvio del nuovo percorso di Un Dento in Più, percorso che passerà nelle prossime settimane anche dai nuovi appuntamenti con la Cycling Academy, progetto di settore giovanile su cui gli stessi dirigenti del sodalizio pugliese hanno annunciato novità per gennaio 2022.